Ti sei mai chiesto come si costruisce una leggenda del calcio? Oggi parliamo di un campione che ha fatto la storia della Juventus e della nazionale italiana, Alessandro Del Piero, un giocatore che con il suo talento, la sua umiltà e la sua determinazione ha conquistato non solo titoli, ma anche il cuore dei tifosi in tutto il mondo. Alessandro Del Piero nasce il 9 novembre 1974 a Conegliano, in provincia di Treviso, fin da piccolo Alessandro dimostra una passione innata per il calcio. Inizia a giocare nelle giovanili del San Vendemiano, la squadra del suo paese, ma è ben presto chiaro che il suo talento è destinato a volare più in alto. A soli 13 anni viene notato dal Padova, dove inizia la sua carriera da professionista. Nel 1993, la grande occasione, Del Piero viene acquistato dalla Juventus. È l'inizio di un'avventura straordinaria, lunga 19 anni, che lo porterà a diventare uno dei simboli più amati del club bianconero. Con la Juventus, Del Piero vince praticamente tutto, sei scudetti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e molto altro. Ma quello che lo distingue dagli altri non è solo il palmarès, è il modo in cui ha vissuto ogni momento sul campo. Alessandro non è mai stato solo un grande attaccante, ma anche un leader silenzioso. Era ammirato per la sua sportività, il suo rispetto per gli avversari e la sua capacità di mantenere l'equilibrio anche nei momenti difficili. Come dimenticare la sua fedeltà alla Juventus nel 2006, quando la squadra fu retrocessa in Serie B a causa dello scandalo calciopoli. Del Piero non solo rimase con il club, ma divenne il punto di riferimento che guidò la squadra verso il ritorno in Serie A. Con la nazionale italiana, Del Piero ha vissuto emozioni incredibili. Uno dei suoi momenti più memorabili, sicuramente la vittoria dei mondiali del 2006, dove fu decisivo nella semifinale contro la Germania, segnando il secondo gol nella storica partita che ci portò in finale. Ma Alessandro Del Piero non è solo calcio. È un uomo che ha sempre dimostrato di essere attento anche al di fuori del campo. La sua passione per l'arte, il cinema e la musica lo ha portato a diventare una figura poliedrica, apprezzata non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la sua umanità. Oggi, Del Piero è un esempio di come la dedizione, la passione e l'umiltà possano portare a grandi risultati. Il suo contributo al calcio è indelebile, ma la sua eredità va oltre i titoli e i trofei. È l'ispirazione che ha lasciato a milioni di persone, dentro e fuori dal campo. Se ti è piaciuta questa biografia e vuoi scoprire altre storie di successo e ispirazione, iscriviti al canale Mindset Vincente. Qui troverai contenuti che ti aiuteranno a sviluppare la mentalità giusta per raggiungere i tuoi obiettivi, proprio come ha fatto Alessandro Del Piero nel calcio. Lascia un like al video, perché il tuo supporto è fondamentale per continuare a crescere e portarti sempre nuovi contenuti di valore. Grazie per essere stato con me, ci vediamo nel prossimo video!